E' una cosa che è nata anche dalle statistiche che c'hanno anche al Ministero della Sanità. Chi non opera in questa direzione, in questo momento di grande crisi economica è un irresponsabile. L'Italia è una nazione sui generi, non esiste il brevetto sul farmaco. Allora, se il Battaglia si mette a fare ricerche e mi inventa una medicina nuova, appena la mette in commercio, anzi finora non la può mettere in commercio, se non la dà, hanno da meno altre due ditte che la possono pubblicizzare. Poi arrivo io, mi piglio la molecola, cambio il colore della scatola, magari invece di mettere come dolcificante lo cilopo al lambone, metto alla fragola o un'altra sciocchezza e lo vendo. Addirittura a prezzi maggiori si è fatti in passato, l'effetto Poggioline era questo. Cioè lo stesso farmaco veniva messo da una ditta che non aveva investito in ricerche, ma aveva solo scopiazzato da ditte serie a prezzi possibilmente più care. Ecco, questo è quindi il troppo e anche questo è una richiesta che è questo prontuario, devo dire che onestamente un po' di pulizia l'ha fatta. Cioè non è possibile che della stessa molecola esistano 10-15 copie. Io ancora mi impegno parecchio a preparare pomate, lozioni, tutto quello che riguarda proprio la formulazione magistrale. E penso che questo sia un settore che noi dobbiamo riscoprire, noi tutti, perché praticamente l'arte del farmacista è anche questo. Usbeziale. Usbeziale, fare praticamente la formulazione, il preparato ad hoc per il cliente. Il laboratorio. E noi abbiamo una preparazione per poterlo fare e quindi io mi auspico che praticamente i medici riscoprono anche il gusto di prescrivere questi prodotti. Sì, c'è solo la ricetta. Va bene, grazie. Signora, è stata chiara la risposta? Sì, sì, va bene, le ringrazio. Bene, buonasera signora. Buonasera. Abbiamo concluso con un ulteriore chiarimento per questa signora che ha telefonato. Io ringrazio il dottore Bocchieri, Salvatore Battaglia e la dottoressa Massari per essere intervenuti e per essere stati disponibili a chiarire quanto è stato possibile. Ringrazio tutti voi per averci ospitato a casa vostra e vi auguro buonanotte. Meno di Stefano della Wille che ha accettato il nostro invito e che giustamente dobbiamo parlare di questa avvertenza, l'avvertenza della tutonette. Potremmo dire punta e da capo in termini nostri e questa è la verità. Noi aspettiamo, e siamo stati tanti fiduciosi, per cercare di sbloccare questa situazione una volta per tutte. Ci siamo prodicate, abbiamo parlato, abbiamo telefonato, abbiamo fatto dei fax per cercare di farci ricevere perché i lavoratori giustamente bussano alla nostra porta, alla porta del sindacato che li protegge. Noi siamo vicino sempre a loro, nella buona e nella cattiva sorte. Non bisogna dare il tempo all'azienda di organizzarsi e di organizzare delle minacce, delle repressioni nei confronti dei lavoratori. Occorre quindi, secondo me, non uno sporadico interesse, interessare la stampa periodicamente, ma una lotta continua, costante nel tempo. Quindi arrivando anche ad interessare uffici, se ormai non ci fidiamo di quelli ragusani, arrivare ad interessare degli uffici al di fuori della provincia o addirittura a tutta la magistratura. Mauro Paleologo, se non sbaglio? La Tutonet è una delle aziende del ragusano probabilmente con le spalle più forti. Per tanti versi può essere anche considerato un fiore all'occhiello nella provincia di Ragusa. Per stessa dichiarazione del titolare ha un fatturato di 6 miliardi l'anno, cifra assolutamente non trascurabile. Occupa nel bene e nel male 100 persone. Ha degli impianti modernissimi. E quindi è proprio un problema di territorio, secondo me. Nel territorio ci vive la gente. Il problema fondamentalmente, volevo anche rispondere un attimo all'interessante intervento del signor Carmelo, che ha telefonato. Noi praticamente lavoriamo in una condizione di estrema difficoltà. Per molti, per l'azienda di assenza si sta verificando l'idea che questo sindacato voglia distruggere, perché l'idea che stanno diffondendo all'interno voglia distruggere, voglia questa azienda, voglia farla cadere in cattiva economia. Questo non è assolutamente vero. Ecco perché noi speravamo con l'intervento degli enti di regolare la cosa e oggi chiediamo anche l'intervento dei partiti politici di questa città per poter anche loro esaminare la situazione e vedere di arrivare in qualche maniera a una soluzione del problema. Però, intanto è il comportamento antisindacale che creano loro. A parte questo, hanno creato una spaccatura all'interno dei lavoratori, per cui ci siamo, i buoni e i cattivi. E' quello che mi dispiace che vengono usati due pesi e due misure. Iniziamo questa prima trasmissione chiedendo al professore Palazzolo che ci parli di alcune nozioni in generale sull'astrologia. Intanto, ecco, cos'è l'astrologia? Sì, abbiamo pensato a questa trasmissione per cercare di fare un po' di chiarezza rispetto alla gran confusione di nozioni che si apprendono qua e là, sui giornali, televisioni, in modo frammentario in genere. Con questa trasmissione noi non è che abbiamo pretese molto elevate, però contiamo di dare almeno quel minimo di nozioni di base, di astrologia, mese dopo mese, per arrivare ad avere almeno un bagaglio che consente di orientarsi meglio in questa materia. Grazie a tutti. 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 Salutiamo a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonanotte a tutti. Grazie 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 a tutti.